Eh sì, ho fatto proprio un bel casino! Sì, praticamente il video che adesso ho rimesso sugli abbonati, praticamente perché voi sono le 7 di sera, ma per me è lunedì notte, quindi l'ho programmato, ho messo solo per gli abbonati, invece no, l'ho reso pubblico e quindi l'avete visto in tutti quanti. Però adesso, perlomeno sapete che se vi abbonate, potrete avere qualche mio video così, un po' più intimo, diciamo. Ecco, quindi, dai, parliamoci chiaro, ma costa come un caffetta, meno forse di un caffè o un po' di più, non lo so, no, come un caffè. È ovvio che chi mi, come dire, gratifica un po' di più, io gli do un po' di più, è normale questo, quello che sia normale, quindi se volete vedere poi in futuro questi video un po' più così, abbonatevi! Ha fatto abbonare anche me!